Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dai legali di grandi navi veloci rispetto alle procedure eseguite dall'autorità portuale per la gestione quadriennale della nuova Darsena Traghetti affidata alla società Logiport del gruppo Grimaldi. L'anticipazione arriva dal magazine specializzato Ship in Italy che rivela come i giudici amministrativi abbiano ritenuto che il ricorso non si presenti assistito da apprezzabili profili di Fumus Boni Iuris. In particolare, secondo il Tar, le censure della parte ricorrente non appaiono in firmare le valutazioni dell'autorità in punto di prospettata carenza di specifici dati circa la sostenibilità economico-finanziaria della gestione proposta e di ritenuta inadeguatezza dell'offerta rispetto alle prescrizioni previste dalla normativa vigente. Infine, i giudici che quindi si pronunceranno direttamente nel merito del ricorso hanno rilevato che non emergono con sufficiente immediatezza profili di illegittima documentazione delle operazioni compiute dalla commissione di gara. Alla gara per la gestione della nuova Darsena Traghetti, ovvero degli attracchi dal molo 27 al molo 30, oltre alla Logiport e alla ricorrente GNV, aveva partecipato anche il gruppo Mobi attraverso la controllata Livorno Terminal Marittimo. La questione comunque fa parlare molto all'interno del porto, non solo per le problematiche di carattere giuridico. Sembra trovare conferma, infatti, che probabilmente a causa di un errore progettuale le banchine che compongono la nuova Darsena Traghetti si starebbero rilevando troppo corte per ospitare alcune tipologie di traghetti, come ad esempio i cruis della Grimaldi. Una manchevolezza non da poco che dovrebbe trovare soluzione attraverso l'installazione di alcuni dolphin, i quali di fatto porteranno ad un allungamento delle banchine. E questo non sarebbe l'unico problema emerso nelle ultime settimane, ma ci sarà modo di parlarne.